Incontriamo Anna D'Amico, parte attiva di questa organizzazione. Come sta andando? È il momento delle iscrizioni? Allora, al momento sta andando benissimo, siamo circa 120 partecipanti, chiaramente che provengono da varie legioni, Abruzzo, Lazio e Molise. Quindi diciamo che l'evento è stato ben degno di nota, quindi la risposta è stata attiva. Quinta tappa del campionato regionale, cosa ci si aspetta da questa giornata? Allora, io spero tanto entusiasmo, anche perché è una manifestazione che torna attiva dopo circa 20 anni, quindi un bel numero di anni. Quindi speriamo che i partecipanti si divertano soprattutto, perché i percorsi per chi fa induro sono belli, suggestivi e troveranno assolutamente vari tipi di paesaggio. Quindi ci saranno prove anche abbastanza difficili, diciamo, che mettono alla prova. Si toccheranno diversi comuni, però quello principale, ovviamente dove si svolgerà poi il tutto, è quello di Toro. Sì, Toro, però sfioreremo anche paesi come Ielsi, San Giovanni Galdo, Pietra Catella, però la parte attiva è sicuramente quella di Toro. Infatti io, a nome di tutta l'organizzazione, ringraziamo il Comune di Toro per averci messo a disposizione il territorio. Tra l'altro, tanti partecipanti da fuori regione, anche un'opportunità per tutti coloro che arrivano qui a Toro e Molise per conoscere il nostro Molise. Sì, effettivamente questa è una cosa bellissima e ringrazio anche tutti i partecipanti perché è una finestra sul nostro Molise che è sempre un po' in coda e invece questa volta siamo parte attiva di una manifestazione, diciamo, importante. Grazie a tutti.